Grazie a tutti. E' ovvio che la vita indipendente è un diritto perché lo è per tutte le persone. Il punto qual è? E' che la persona con disabilità per esercitarlo questo diritto ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di essere sostenuta. L'affermazione del suo diritto quindi passa attraverso non il se ma come questa indipendenza può essere esercitata in modo compiuto. E quindi chi è che dovrebbe garantirgli questo diritto e attualmente lo sta facendo oppure no? Siamo di fronte ad un'affermazione di equità sociale ma sono le istituzioni che hanno il dovere non tanto la prerogativa o il privilegio hanno il dovere di stabilire le pari opportunità ma semplicemente per adempiere in modo compiuto al dettato costituzionale. Quindi non inventiamo niente da questo punto di vista. Il punto è che oggi la vita indipendente è una sorta di cameo sperimentale di qualche cosa che di per sé non avrebbe bisogno di grandi sperimentazioni. Ok. Un'altra delle cose che si dicevano durante l'intervento è che la vita indipendente è un sistema. Non è solo semplice assistenza da parte di un assistente personale. Cosa fa parte di questo sistema? La vita indipendente non può essere risolta soltanto attraverso una monetizzazione dell'assistente personale che tra l'altro in molti casi non ne basta neanche uno perché le 24 ore per 7 giorni alla settimana uno non è sufficiente. La vita indipendente è un sistema di servizi e prestazioni. Non è una prestazione perché non è neanche meno una prestazione per partita di giro. Ti do dei soldi che tu puoi giri ad un assistente personale. Perché se fosse così sarebbe tutto molto semplice. Sarebbe solo una questione di soldi e perché diavolo dovremmo fare tutti questi convegni? Ultima domanda. Facciamo un po' il punto della situazione. Quindi per superare questa stagnazione di questa situazione e per garantire un futuro veramente indipendente alle persone con disabilità cosa possiamo fare? Primo. La vita indipendente è il primo strumento di negoziazione col cittadino nel momento in cui si rivolge con una richiesta al sistema pubblico dei servizi. Secondo. L'istituzione quindi a cominciare dal nostro Parlamento, dal nostro governo che stabilisca che la vita indipendente più o meno come è accaduto con l'assegno di accompagnamento stabilisca che la vita indipendente è un diritto che in una certa forma deve essere almeno esigibile. E la terza questione, e stavo chiudendo, è la definizione dei criteri. Attraverso quali criteri? A partire da quali criteri? E chi li definisce poi? Intanto i criteri, ma poi chi definisce il raggiungimento di quelle condizioni per permettere alla persona di accedere con diritto alla vita indipendente? E quindi ha tutti i benefici che questo comporta. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a tutti.